Ciao ragazzi, sono JayZek, premetto subito una cosa, ovvero il video di Hit non dovevo uscire, questo perchè volevo fare qualcosa di più duraturo, però avendo avuto problemi non è stato possibile, perciò oggi cercherò di riscattarmi a modo mio. Oggi parleremo della famiglia di Goku, e per famiglia non mi riferisco a quella attuale che Goku si è creato sulla Terra, ma quella delle sue origini di Saiyan. Iniziamo parlando di Jin. Jin è la madre di Goku, fino ad un paio di annetti fa, molti pensavano che fosse seriva la madre di Goku, questo perchè, vedendola lottare al fianco di Bardak, si pensava che i due avessero anche altri tipi di rapporti. Jin è una Saiyan di terza categoria, quindi proprio di infimo, ma di infimo livello. Nonostante questo, faceva parte della squadra di Elite di Bardak. Qui, il nostro Saiyan si ritrova sempre più volte a salvare Jin, per via della sua scarsa dote combattiva. Questo fece accendere la scintilla tra i due, e per scintilla non mi riferisco all'esplosione del pianeta Vegeta. Bardak si affezionò a lei, nonostante non sia molto comune tra i Saiyan, questo perchè, oltre a salvarla da ogni tipo di pericolo, Jin possiede un carattere estremamente gentile. La scoperta di questo personaggio, a parer il mio stupendo, l'abbiamo nel quarto volume di Giaco De Galactic Patrolman, uscito alla bellezza di tre anni fa. Ma torniamo a noi. Jin, non essendo portata per il combattimento e non avendo quel tocco di spietatezza che accomuna tutti i Saiyan, decide di ritirarsi dalla squadra di Elite, e di andare a lavorare come operaia nel centro di distribuzione della carne dei Saiyan. Jin regala a Bardak due figli, e se ve lo state chiedendo, non utilizza Amazon Prime, infatti l'attesa per ogni bimbo è di nove mesi. Spedizione a parte, abbiamo i conosciutissimi Miradish e Kakarot, ovvero il nostro caro Goku. Nonostante Toriyama ci abbia regalato lo speciale e le origini del mito, di Jin non vediamo nemmeno l'ombra. Ma fortunatamente nel volume menzionato prima di Giaco De Galactic Patrolman, che per chi non lo sapesse è il prequel canonico di Dragon Ball, è presente una piccola storia che precede la distruzione del pianeta Vegeta e la quasi estinta razza Saiyan. Questa storia è intitolata Dragon Ball Minus, ma credo si dica Minus, dannati problemi di pronuncia. Comunque non preoccupatevi, cercherò di farvi una sintesi. Qui, la potente razza guerriera dei Saiyan, sotto il controllo del malvagio imperatore Freezer, combatte i giorni e notte per ottenere con la forza molti pianeti. Bardak, insieme ad un altro Saiyan, mentre sono impegnati alla conquista di un pianeta e dallo stormino dei suoi abitanti, ricevono una comunicazione tramite scouter, dove veniva riferito a tutti i Saiyan di fare ritorno nel pianeta Vegeta. Bardak, essendo da sempre un tipo molto sveglio, durante il viaggio di ritorno, rivela al compagno che questa faccenda risulta decisamente sospetta. Questo compagno, però, cagatosi sotto pensando che qualcuno potesse ascoltarlo dallo scouter, gli risponde che sarebbe meglio non parlare male dell'imperatore Freezer. Bardak, così, suggerisce allo stupito guerriero di togliere lo scouter, e mi sembra magari giusto. Giunti nel pianeta Vegeta, i due compagni vedono l'astronava del possente Freezer librarsi in cielo. Così, Bardak inizia a sospettare che Freezer stia tramando qualcosa. Neanche a farlo apposta, arriva un altro Saiyan a salutare il nostro Bardak. Questo gli rivela che in giro circola la voce del leggendario Super Saiyan. Questa voce è arrivata a fine soldati di Freezer, quindi anche all'imperatore. Quest'ultimo rimugina su questo ipotetico Super Saiyan, rassicurato dai suoi soldati che sia solo una leggenda. Freezer, così, risponde di saperlo, ma non vuole comunque correre il rischio. Così domanda quanto tempo ci voglia affinché tutti i Saiyan in missione facciano ritorno nel pianeta Vegeta. La risposta è di circa un mese. Così Freezer programma di distruggere il pianeta Vegeta tra un mese, e nel caso in cui i sopravvissuti dovessero avere qualche sospetto, basterà dire loro che il pianeta è scomparso per via di una collisione con un gigantesco meteorite. Vegeta nel frattempo si trova impegnato nella conquista di un pianeta, insieme a Radish e Nappa. Radish domanda a Vegeta se sia il caso di fare ritorno a casa, avendo ricevuto come tutti questo ordine. Vegeta risponde che non sia il caso, e che basterà dire di non aver sentito nulla. Finalmente entra in gioco Jin. Bardak si rega nell'insediamento della distribuzione della carne. Prima ci viene spiegato che ci sono solo poche migliaia di Saiyan in vita, e che sia difficile aumentare la popolazione. Bardak saluta Jin, che si butta subito tra le sue braccia. Qui Jin chi riferisce che il figlio Radish è finalmente diventato un guerriero, e che si trova attualmente in missione con il principe Vegeta. Ma essendo molto lontani, non sono ancora tornati. Bardak così domanda se il figlio Kakarot si trovi nell'incubatrice. Qui ci viene mostrato un Goku già abbastanza cresciuto, di fatti a tre anni. Bardak riferisce a Jin che ruberà una navicella nella notte, e che spedirà Kakarot in un pianeta dalla popolazione debole. Jin chiede spiegazioni, così Bardak le riferisce i suoi sospetti su Freezer, e che agisca per il bene del figlio. Jin domanda che sia strano che un Saiyan si preoccupi dei suoi figli. Così Bardak risponde che sia per via della sua personalità molto gentile che lo stava pian piano contagiando. Jin suggerisce di scappare tutti insieme, ma Bardak smentisce dicendo che tanto li avrebbero rintracciati con gli scouter. Ma ora se ci pensate un attimo, non bastava gettare gli scouter o non portarli dietro? Bah! Goku viene spedito nella notte come da programma. La madre saluta il figlio avvisandolo che sia per il suo bene, mentre Bardak gli spiega di non guardare a lungo la luna piena. Entrambi lasciano al figlio un ultimo messaggio, ovvero quello di restare in vita. Qui vediamo un Kakarot che indossa una battle suite svolazzare nell'universo con meta pianeta Terra. Nel frattempo, Jago viene convocato dal re Galactic per una questione molto importante. Il re avvisa a Jago che un oggetto volante proveniente dai pianeti sotto il controllo di Freezer si stia recando verso la Terra. Jago, dopo una ricerca, viene a conoscenza del fatto che la Terra sia popolata da abitanti molto deboli, quindi nel caso in cui non valesse la pena proteggerli userebbe la sua bomba di estinzione. Alla fine, Jago riferisce che la Terra non è un mondo importante. Il re risponde è quella missione che era stata data per capire se valeva la pena salvare i terrestri dalla minaccia, ma alla fine non avevano nulla da perdere. Così Kakarot arrivò finalmente sulla Terra. Qualche tempo dopo, il pianeta Vegeta insieme a migliaia di Saiyan venne cancellato per mano di Freezer. Moltissimi anni dopo, il bambino salvato dal massacro grazie ai genitori si ritrovò faccia a faccia con il suo cerimo nemico, il nostro amatissimo Freezer. Concludendo il discorso di Jhin, spererei di vedere questo personaggio apparire in uno speciale, perché è un personaggio che merita di essere approfondito con accurati dettagli. La stessa cosa vale per Bardak, che come sappiamo dovrebbe essere lui il vero Super Saiyan della leggenda, ma di questo voglio parlarvene in un altro video. Parliamo un attimo di Radish. Come sappiamo, Radish ascoltando il consiglio di Vegeta è riuscito a salvarsi dal massacro di Freezer. Questo personaggio, parecchi anni dopo, si rega sulla Terra per vedere che fine abbia fatto il fratello Kakarot, inviato sulla Terra parecchi anni prima. Quest'ultimo è stato infinocchiato dalla storia raccontata di Freezer, infatti non conosce il vero svolgimento dei fatti. Ma sa che la sua famiglia, insieme alla sua terra natia, si è sparita per mezzo di una collisione con un meteorite. Qui chiede al fratello Kakarot di unirsi a lui. Presto riconosce la bontà di Goku e riesce a capire che qualcosa in lui si è cambiato. Difatti questo comportamento è ben lontano da quello di un ospitato Saiyan. Così ci viene spiegato che Goku si è cambiato grazie alla botta che ha preso alla testa una volta giunto sulla Terra. Alla fine, Goku e le adosi con Junior si sacrifica per sconfiggere il fratello, venendo a conoscenza della futura minaccia di Nappa e Vegeta. Radish viene sconfitto, fin qui tutto bene. Quello che penso è che come personaggio secondo me poteva avere un po' più di importanza all'interno della storia. Come sappiamo anche Vegeta inizialmente era cattivo, ma poi restando in contatto con Goku e i terrestri è riuscito a cambiare. Qui dico solo che se Radish avesse avuto la stessa sorte sarebbe stato figo, solo dal fatto che con quei capelloni che si ritrova, alla prima forma di Super Saiyan si sarebbe potuto spacciare di terzo livello. Scherzi a parte, fatemi sapere la vostra nei commenti, se il video vi è piaciuto lasciate un like, specialmente per la bellezza di Jin ed iscrivetevi al canale.